Mentre è superato quota 5.000 la raccolta di firme contro la realizzazione di un campo di calcio all'interno della ex caserma di Cocco, in questo parco è affisso da qualche giorno anche il manifesto con le date di svolgimento di questi lavori. Presidente del Comitato per la Difesa del Parco, Carlo Gaspari, c'è una singolare data in questo cartello che abbiamo notato? Ma certo, questo cartello è riportato alla data di inizio dei lavori, è vero che i lavori non sono stati ancora iniziati, è vero anche che è una data ufficiale che riguarderà la contabilità e l'esecuzione dei lavori ed è il 27 luglio. Si deve ricordare che noi il 29 luglio abbiamo avuto con l'amministrazione comunale un consiglio straordinario proprio per discutere di queste cose, cioè la cittadinanza ha chiesto e ottenuto il consiglio comunale straordinario. Questa data riportata su questo cartello era praticamente la volontà già scritta di quello che l'amministrazione intende fare, di questo parco e dei cittadini che hanno firmato più di 5.000, ancora oggi c'è richiesta per firmare. L'assessore Ricotta obietta, l'ho fatto in questi giorni sugli organi di stampa, la manutenzione altrimenti senza realizzare questa opera sarebbe impossibile per questa opera che sarebbe destinata al degrado, voi invece avete altri conti, altri scenari? All'assessore Ricotta dobbiamo dire semplicemente una cosa, che questa operazione è un'operazione fallimentare, è fatta con un mutuo che i cittadini si accollano, allora noi chiediamo all'assessore Ricotta perché questa iniziativa? Chi sarà il privato che si accollerà a una spesa per il personale, il costo dell'acqua, luce, gas per gli spogliatoi, che dovrà fare manutenzione al parco con la remunerazione che può produrre un semplice campetto sportivo, c'è da aggiungere in una città dove 80-100 giorni all'anno piove, è un campetto sportivo scoperto. Quest'operazione costerà 144.000 euro per costruire l'impianto, ma comporterà una tassa annuale per i cittadini pescaresi perché tutta questa operazione necessiterà di un contributo per la gestione dell'impianto e per la manutenzione del parco al privato. Questo significherà che l'amministrazione comunale dovrà dare un contributo annuale al soggetto privato a cui si affiderà la gestione, che diventerà una tassa per tutti i cittadini pescaresi.